Sì, vanno sputato a me e io sputato a loro. Io amo la mia squadra, anche quando perdi non l'hanno solo grande lì. Sei di fermi, sì? Se ti mangi il feo non vede la giornata. Signore, domani si fa un cazzo. Domani, anzi oggi si fa il podcast. Ben ritornati nel podcast di Dernana News. Io sono Lorenzo Donzelli, qui con me i soliti Fabio Bergonzi. Ciao Fabio. Ciao a tutti. E Edoardo Frusta. Ciao Edo. Ciao a tutti, buonasera. Finalmente torniamo, abbiamo cambiato anche un po' la sigla, abbiamo messo il Dalle Boca. Torniamo a parlare di un'altra vittoria, la seconda consecutiva dell'era Breda. Insomma, tanti argomenti di cui parlare, tanti begli spunti. E soprattutto un po' più con il sorriso, diciamo, anche in questa puntata. Mandiamo subito allora le parole del mister, così facciamo bene gli ordini del giorno. Era previsto, però credo che nel nostro processo di crescita, il fatto magari anche di sentire una partita così ci sta anche. Perché abbiamo giocato molto più col freno a mano di tante altre partite e con meno lucidità e meno anche qualità. Bene la voglia in ogni caso di trovare soluzioni. Detto questo, la B è anche questa, è importante portare a casa punti, ma non vuol dire che con questo siamo contenti di questa persona, contento di questa prestazione e non devono essere anche i ragazzi. Dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo capire che la B ti richiede un'intensità fisica e mentale costante. Noi lavoriamo tanto per avere quel tipo di intensità e dobbiamo tirarla fuori e pretenderla sempre. Poi bisogna fare anche i complimenti, secondo me, a Friar Pissarocchi. In ogni caso è una squadra che ha dei valori, è quadrata e ha anche buoni giocatori. Però noi, insomma, potevamo fare qualcosa in più. Lavoriamo con l'idea di non accontentarsi e di far sì che queste partite portino punti, ma portino anche insoddisfazione e voglia appunto di migliorare sempre. Sì, mister che ha parlato anche di stabilità mentale e fisica per tutta la partita, che sicuramente era una delle cose che ci mancava della prima metà con l'era Lucarelli. Anche in questa partita, insomma, sarebbe stato meglio chiuderla, però per una volta, diciamo, dai, che ci è andata bene sul punto di vista del risultato. Ragazzi, lascio a voi la parola. Edo, che ne pensi di queste parole del mister e della partita? Allora, io sono d'accordissimo con le parole del mister sul fatto, diciamo, che non ci dobbiamo accontentare, ma che dobbiamo anche ricercare, diciamo, di migliorare dal punto di vista del gioco, ma anche sul fatto che l'importante ora è fare i punti. Ho visto comunque una ternana nel primo tempo molto simile al primo tempo di Cosenzi, in cui abbiamo fatto fatica a costruire il gioco, comunque a trarre in porta. È stata comunque una partita molto, diciamo, sofferta da questo punto di vista inizialmente. Entrambe le squadre avevano paura di farsi vedere in avanti, data anche l'importanza della sfida. Era praticamente uno scontro diretto, quindi ecco, ci può stare un inizio di partita del genere. Siamo stati, diciamo, bravi e fortunati a trovare il gol nel finale del primo tempo, che purtroppo però dopo il pareggio immediato nell'inizio del secondo tempo, ecco, è balzo a poco. Siamo stati però bravi a riportare subito la partita dalla nostra parte, con una bellissima azione di falletti, che ha dato un'ottima palla a Lucchesi, che nonostante il pessimo stop è riuscito a buttarle in rete. Vanno, diciamo, fatti complimenti anche in questo caso ai giovani, vista l'ottima partita di Lucchesi, Raimondo, che, diciamo, oggi è stata questa partita un po' più sottotono rispetto alle altre, il bellissimo gol di Stefano, il Favasuli è entrato in campo benissimo, e anche in questo caso, diciamo, che i giovani hanno fatto la differenza. Ho visto ancora un po' sottotono, diciamo, i giocatori che in realtà, sono più esperti, che dovrebbero dare qualcosa in più alla squadra. Vedi Casasola, che nonostante i tre golli consecutivi, ancora dal punto di vista del gioco, non è informissima, nonostante anche il bell'assist per Di Stefano. La Boico, lo vedo ancora un po' espaisato in mezzo al campo, credo che può e deve fare molto di più per la squadra. Ho visto una condizione atletica e fisica nettamente migliore rispetto alla gestione Lucarelli. Corriamo per tutti i 90 minuti oltre, vedo anche, diciamo, che è una condizione nettamente migliore, e questo è molto importante. Anche perché se non corri nel calcio non vai da nessuna parte, sembra una banalità, ma purtroppo è così. e basta vedere, diciamo, una partita con il Palermo, in cui negli ultimi dieci minuti noi eravamo in dieci, loro in undici, e sembrava che loro erano la squadra con l'uomo in meno. Quindi, ecco, sono contento e ancora più fiducioso per le partite che verranno. domenica ci aspetta una partita fondamentale. Ecco, credo che questo ne parleremo più tardi. Lascio a te la parola, Fabio. Sì, beh, io sono molto d'accordo sia per quanto riguarda l'analisi della partita fatta dal mister, sia per quanto riguarda quello che hai detto te. Penso che sicuramente non è stata una delle migliori prestazioni della Ternana quest'anno, soprattutto da quando è arrivato il mister, però voglio, diciamo, spezzare una lancia comunque sia a favore dei ragazzi perché credo che in una partita come questa contava molto più il risultato della prestazione. Diciamo che mi schiero anche in un dibattito che spesso si è visto anche in Serie A, in questo caso dalla parte dei risultatisti, ecco. Quindi siamo contenti di questa vittoria, una vittoria che muove la classifica, perché adesso comunque sia siamo fuori dalla zona retrocessione, in zona play-out e soprattutto è una vittoria che fa morale. Fa morale per la squadra, fa morale soprattutto per i giovani, per uno come Lucchesi che comunque sia ha iniziato a giocare titolare da diverse partite. Ormai sono, credo, 4 o 5 partite che sta giocando a titolare. Insomma, sono contento per lui che abbia trovato il gol e sono contento anche per Di Stefano che io stesso avevo tirato in ballo la settimana scorsa che sta dicendo che poteva magari essere un giocatore fondamentale in questo periodo per l'Aernana. Insomma, ha risposto presente. Ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. Insomma, ha fatto anche un gol di ripreggevole fattura, così come lo aveva fatto contro la Reggiana. Quindi è un ragazzo che le qualità le ha e sta iniziando a dimostrarle e speriamo possa dimostrarle sempre con più continuità. E poi, comunque sia, sì, per quanto ha detto, vedo, magari c'è bisogno di un maggiore apporto da parte di coloro che conoscono meglio la categoria e quindi speriamo che anche loro, piano piano, si inizino a prendere la squadra sulle spalle. Un po' come ho iniziato a fare falletti da un po' di partite a questa parte perché l'assist che fa, diciamo, a Lucchesi è un assist, insomma, che fa parte del suo bagaglio tecnico di cui ci aveva abituato anche, a cui ci aveva abituato anche e soprattutto negli scorsi anni che in questo inizio di campionato era un po' mancato, però ultimamente diciamo che sta tornando, ecco. Poi sì, chiudo anch'io parlando un attimo e lanciandovi questa provocazione riguardante l'Ecco. Lorenzo la settimana scorsa ci aveva chiesto se noi avremmo firmato, insomma, per fare quattro punti in due partite. Io avevo detto di no perché avevo paura che magari perdevamo un'occasione importante di vincere contro la Feral Pisalò che secondo me tra le due comunque sia era la più importante perché si giocava in casa e avevo paura magari di non fare punti lì però adesso che, insomma, abbiamo questi tre punti io vi dico che magari un pareggio contro l'Ecco ci starebbe anche, diciamo. Ovviamente bisogna andare con la convinzione di poter vincere la partita però non rimarrei dispiaciuto se non dovessimo vincere ma dovessimo pareggiare. Poi vorrei sentire anche la vostra opinione su questo. Guarda Fabio, ti dico la verità secondo me una vittoria sarebbe fondamentale domenica, ecco non firmo neanche per il pareggio diciamo anche perché in questo momento siamo una squadra in fiducia, in forma che si è resa conto di quali sono i propri mezzi e che si è resa conto di potersela giocare con tutte secondo me Breda è stato molto bravo da questo punto di vista trovando un equilibrio nella formazione titolare schierando sempre gli stessi a meno, diciamo infortunio, squalifiche quindi l'importante è entrare in campo convinti con la voglia di vincere e di farcela come nelle ultime due dobbiamo anche essere realisti però diciamo che negli ultimi quattro la Ternana ha tenuto una media di otto punti ha fatto otto punti con una media di due punti a partita e questa è una media promozione diretta quindi sicuramente non potremmo mantenere questo ritmo per il resto dei partiti del campionato sfortunatamente però ecco già diciamo queste due vittorie ci danno una tranquillità diversa rispetto a come ci trovavamo quattro partite fa io Fabio ti rispondo che se dopo la prestazione con il Cosenza ero diciamo più più fiducioso contro la Feral Pissolo nonostante la vittoria ecco mi ha un po' rimesso i piedi per terra insomma mi ha fatto capire che dobbiamo essere concentrati quindi con il Lecco sicuramente non sarà una gara facile ti dico la verità forse per il pareggio firmo soprattutto perché se andiamo a vedere anche nella casa degli altri diciamo ci sta la Reggiana e il Sottirol che stanno sopra di noi e che hanno entrambi delle sfide abbastanza difficili rispettivamente contro Venezia che è la seconda forza del campionato e contro una Sampdoria che è in netta ripresa quindi diciamo che un pareggio andrebbe anche bene in termini anche di classifica tu invece Fabio cosa faresti? cioè firmeresti per il pareggio? allora diciamo che magari non firmerei come ha detto Edo ecco però essendo più realista diciamo non sarei troppo dispiaciuto insomma se dovessimo pareggiare contro il Lecco in uno scontro diretto ecco penso sia molto più tragica una sconfitta eh piuttosto di di quanto ci possa far come una vittoria ecco spero di di essermi capito va bene perfetto Fabio volevo contraccambiare eh la provocazione con un'altra provocazione questa invece in termini diciamo di di campo Favassuli lo vedete più come un'arma dalla panchina o prima o poi diciamo si prenderà il posto da titolare? secondo me eh il mister lo sta gestendo nella maniera migliore eh io eh lo vedo più come uno che entra a partita in corso e che spacca la partita anche perché eh bello frizzantino eh non lo so a me in queste partite è piaciuto molto quando è entrato quindi ecco forse lo vedrei di più in questo ruolo io penso che possa essere sia un'arma comunque sia partita in corso perché comunque sia come ha detto Edo può può spaccare la partita con la sua dinamicità però io penso che magari qualche partita anche schierata all'inizio possa possa far comodo e sicuramente però su una cosa possiamo essere tutti d'accordo cioè che è una delle più belle sorprese di questo inizio campionato ecco su quello penso non ci siano dubbi considerando anche che è la prima stagione tra i professionisti insomma quindi è sicuramente una 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 bella scoperta passiamo invece nella fase offensiva nella fase dei gol parliamo un po' di gol Casasona che nell'ultimo quattro partite è stato coinvolto nel gol nonostante quindi le prestazioni un po' altalenanti si fa sempre ripagare quando si tratta di dei momenti decisivi diciamo dai Fabio volevo dare la parola a te e farti dire un po' di statistiche in termini di gol si beh diciamo che per quanto riguarda la fase offensiva sicuramente è il dato che salta più all'occhio da quando c'è stato il cambio allenatore perché abbiamo fatto otto gol in quattro partite mentre prima ne avevamo fatti dieci in dodici e poi è una fase offensiva che comunque sia vede coinvolta in zona gol un po' tutti i giocatori da tutti i riparti perché appunto Casasola ha segnato tre gol ha fatto l'assist proprio questo sabato Raimondo e Di Stefano comunque sia hanno segnato ha segnato mi sembra di Agite avesse segnato contro lo Spezia e ha segnato Lucchesi insomma questo sabato quindi tutti i riparti sono convolti in fase offensiva mi viene in mente non per per recriminare niente a lui però per esempio anche Favasuli insomma aveva avuto una grande occasione sempre contro lo Spezia quindi arrivano un po' tutti a concludere in porta e si vedono un po' tutti i giocatori convolti nella fase offensiva io penso che sia proprio questo l'attaccare diciamo compatti da squadra che sta facendo la differenza in queste quattro partite che ha fatto la differenza in queste quattro partite e speriamo farà la differenza anche nelle prossime ma sicuramente diciamo la svolta in attacco da Ternana è da imputare al mister ecco ha fatto sicuramente un gran lavoro davanti dando fiducia a due giovani come Raimondo e Di Stefano di grandi prospettive e devo dire niente che i due ragazzi stanno ripagando la sua fiducia e sono convinto che faranno delle grandi carriere e speriamo che possano continuare su questa strada sicuramente giocare titolari e avere una buona continuità dal punto di vista delle prestazioni gli aiuta con la fiducia e possono sicuramente fare ancora meglio di quello che stanno facendo e poi scusa scusa Edo volevo anche aggiungere come avevamo detto precedentemente che un altro insomma un altro cambio importante per questa svolta in fase offensiva secondo me è il ritrovare Falletti il metterlo nuovamente in condizioni di poter esprimere il suo calcio e di farlo tornare diciamo al centro del gioco della Ternana e sicuramente magari non si è non si è fatto vedere per quanto riguarda i gol però per quanto riguarda l'importanza all'interno dello sviluppo del gioco è fondamentale è tornato ad essere fondamentale ecco sì sì hai ragione sono assolutamente d'accordo ecco magari nonostante le ultime prestazioni o perlomeno l'ultima prestazione non sia stata eccelsa è stata comunque impreziosita da un assist favoloso per Lucchesi quindi sicuramente in quella posizione può tornare il Falletti che conosciamo e può veramente cambiare la partita da un momento in un altro e allora vediamo come le nostre amme offensive risponderanno la partita contro il Lecco Lecco che per l'appunto è anche la seconda peggior difesa della Serie B ad oggi quindi subito dopo la Feralpi Salò che vabbè c'è una differenza di 8 gol subiti tra le due 31 a 23 però comunque riusciamo riusciamo comunque a dire che il Lecco ad oggi è la seconda peggior difesa quindi se se continuiamo così lì davanti sicuramente potremmo dire la nostra ragazzi a questo punto direi che abbiamo toccato un po' tutti i punti non so se volete aggiungere qualcosa torte arbitrali edo non ci sono stati no questa volta dai tutto mi sembra tutto regolare ecco forse perché non ha fatto grossi non è risaltato dall'occhio perché non ha fatto grossi errori dai rispetto a partite scorse quindi dai arbitraggio più che sufficiente dai bisogna ogni tanto bisogna anche ammetterlo si assolutamente poi magari perché non ci sono stati neanche visto i dubbi quindi questo lo ha avvitato parecchio poi si è vinto quindi dai sì sì assolutamente abbiamo avuto da dire anche in occasione in cui diciamo abbiamo portato i tre punti a casa quindi ecco no è vero è vero ma è dire mai no è vero è vero però magari anche questo ci ha un po' ammorbiditi e allora ragazzi io vi ringrazio come sempre grazie edo grazie fabio grazie a voi di averci ascoltato grazie a voi grazie a voi buonasera sempre forza a fare forza a fare ciao ciao a tutti